Le fate vi danno il buongiorno con questo messaggio. Dieta vegetariana. Una nuova dieta è fonte di energia, salute, lucidità e capacità espressive maggiori. Le fate sanno che nutrirsi dei prodotti freschi dell'orto è il modo più sano e naturale di vivere. Sei invitato a seguire la saggezza delle fate e a mangiare molta verdura, frutta, legumi e noci, specialmente quelle biologiche. Questa carta conferma la tua voglia di seguire una dieta vegetariana o addirittura vegana. Cambiare alimentazione determinerà trasformazioni positive, idee più chiare, una crescita delle tue capacità psichiche e maggiore energia. Altri significati aggiuntivi di questa carta sono un problema di salute o di comportamento è legato all'alimentazione. Elimina le sostanze chimiche dalla tua dieta. Disintossicati. Recita una preghiera di ringraziamento prima di mangiare. Fai alcune ricerche attraverso letture, consultando un nutrizionista o frequentando un corso su come bilanciare la tua dieta assumendo frutta e verdura. Passa al cibo crudo. Incoraggia i tuoi figli a mangiare più frutta e verdura fresca biologica. Questo è il messaggio della buona giornata.